Quando mai siamo stati totalmente liberi? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Che poi cosa vuol dire essere totalmente liberi? Cosa vuol dire essere liberi? Cosa vuol dire stare dentro una società? Se per libertà intendiamo quello che la verità fa, la verità ci rende liberi, beh, allora è un conto. Ma c'è una verità e c'è una libertà che dipendono dalle circostanze. No, per la verità, la verità non dipende dalle circostanze, ma è una verità forse di livello circostanziale, così me la cavo. Cosa ho detto? Beh, pensiamoci. A parte le battute, torniamo a noi e torniamo a dire che in fin dei conti per stare dentro una società siamo disposti ad accettare alcune rinunce a questa libertà, a questa libertà che non è quella valoriale, che non è quella che cambia il senso della nostra vita, ma che magari modifica le nostre abitudini quotidiane. Lo sciopero dei mezzi, il certificato di esistenza in vita, una carta d'identità, un certificato da presentare, le imposizioni che ci fanno al lavoro sugli orari, sono delle regole alle quali, magari a malincuore, siamo disposti, qualche volta costretti, ad accettare per stare dentro una società. Le regole che derivano dal fatto che se voglio suonare pianoforte le note sono sette, se voglio giocare a pallone non posso prendere la palla con le mani, sono regole che mi costringono a modificare, a controllare la mia creatività, ma che in fin dei conti mi permettono di suonare uno strumento, di giocare a calcio. Ovvio che vale per qualunque altro sport. Quali sono allora le regole, i vincoli che vanno a danneggiare la mia dignità? Perché certe cose non le accetto in funzione della dignità, in funzione dei miei principi? L'unica motivazione che mi viene in mente è perché qui ci sia veramente una profonda minaccia verso le cose in cui credo, verso i valori che fanno la mia vita, verso i valori che determinano il mio senso della vita e in fin dei conti la mia felicità. Perché se fosse solo una questione di fare cose che non ci piacciono, beh, allora Viktor Frankl ce l'ha insegnato molto bene, lo psicologo nel Lager ci ha detto che la libertà è quello spazio che sta nell'accettare la situazione nella quale stiamo vivendo. La guerra, la pandemia, la dittatura. Forse che le persone sotto la dittatura non erano costrette a fare delle cose che non erano gradite, pur di rimanere in vita, pur di continuare a sperare che quella dittatura crollasse. Forse non erano disposte a rinunciare a parte della loro dignità per preservare dei valori più grandi. E qui è un discorso complesso, lo lascio a voi per approfondirlo. Grazie. Buongiorno e buon caffè.